Mio re, ciò che vedo sono due stranieri. Vengono da lontano. Quanto lontano? I lavori del presepe vivente procedono senza sosta. San Giuseppe! All'odro! Fermati! Ma dove siamo? In Giudea. In Giudea? Ma quanto è grande sto presepe che hai fatto? Venite da lontano? Da molto lontano. Siete due persone meravigliose, ma lo si mette proprio a occhio nudo. Quello. Rassegnati. Siamo finiti nell'anno zero, ai tempi di Gesù. A proposito di stranieri, Erode ne sta cercando due. Ma allora lei conosce Giuseppe Maria. Lei è incinta. Che fra l'altro però il figlio non è di lui. Esatto. In che senso? Gesù non ha manco lo catechismo ricognito. E allora Betlemme! Dobbiamo fare qualcosa per salvare Gesù. Guardate! Noi rivoluzionari non lasciamo mai traccia di noi se non nella storia. Mi racconti com'è andata? Eravamo io, lui e Garibaldi. Salvo, c'è tutto. Manca soltanto il bue. E dove lo trovo io? Speriamo che almeno sia un bambino tranquillo. Sì, no? Come bambino sarà tranquillo. Poi le cose si complicano dopo i 30 anni. Moltiplica i pani, cammina sulle acque. Buon Natale! Let it snow! Let it snow! Let it snow! Gli anni di Cristo! Chi? Gli anni di Cristo! Gli anni di Cristo! Mi racconti! Grazie a tutti